ciao ragazze e benvenute in questo mio nuovo video vi ricordate che ho girato il video degli ultimi prodotti che ho acquistato insomma di beauty e di cosmesi sì io me lo ricordo perché ho appena finito di girarlo solo che non mi bastava lo spazio che avevo all'interno del telefono e quindi ho dovuto concludere quel video lì prima di finire di mostrarvi i prodotti quindi ne ho ancora tre e niente ve li vado a mostrare in questa continuazione del video dei prodotti comprati prodotti appena comprati allora vi faccio vedere questa maschera qui della roche poset questa è una maschera idratante che si chiama idrafaz intense mask l'ho presa all'interno di una parafarmacia qualche tempo fa molto tempo fa sarà tre mesi fa è una crema idratante che dovete tenere in posa dieci minuti e vi idrata la pelle solo che io l'ho acquistata perché l'ho trovata tipo in promozione a 1 euro e 90 una roba del genere quindi ho fatto che prenderla e l'ho pagata adesso che sto leggendo l'inci mi sta venendo un attimo di brividi sulla schiena perché tra il dimeticone il paraffinum liquidum non so che cos'altro ci volevano mettere dentro comunque sono entrambi questi ingredienti quasi ai primi posti e quindi cioè penso che sia una maschera del cavolo boh magari la regalerò non lo so vi farò sapere insomma pensavo che la roche poset non utilizzasse ingredienti proprio così scadenti così schifosi ma vai a capire non lo so altri prodotti che vi vado a mostrare sono questi due profumini che mi sono stati regalati dal cameraman quindi dal mio dal mio fidanzato questi sono i bonbon malizia questo è il bonbon malizia primo bacio questo è il bonbon malizia oxygen bubble partiamo da questo allora questo lo spruzzato di qua questo è un bonbon molto molto floreale o meglio floreale come posso dire fragranza floreale quella è la dicitura che trovate scritto su fragrantica secondo me invece questo qui è un fresco e pure agrumato tra l'altro perché qua di floreale c'è proprio poco cioè il primo spruzzo è floreale poi dopo avete un agrumato un po acido un po fresco che a me personalmente non fa impazzire quindi secondo me il nome oxygen ci sta tutto perché è molto molto fresco non è tra i miei preferiti però ho intenzione di utilizzarlo ugualmente magari per fare il layering quindi per spruzzarlo appena dopo spruzzato un altro profumo che è un po più potente quindi se volete aggiungere una nota fresca o comunque una connotazione fresca a un profumo che magari state utilizzando attualmente e che è caldo potete spruzzarci insieme questi qui secondo me i bonbon malizia sono dei profumi che si prestano proprio a fare questa tecnica qui il layering quindi per cambiare un profumo che voi avete già e che utilizzate abitualmente per avere un'altra percezione di quel profumo lì vi spruzzate sopra uno di questi secondo me è il top il mio bonbon al milkshake lo spruzzo molto spesso insieme al limari di Avon questa è una cosa che non vi ho detto nel video precedente ma ve la dico adesso l'altro profumo che mi è stato regalato dal cameraman è questo che mi piace tantissimo bonbon malizia primo bacio che è molto molto dolce in realtà io non sono una fanatica dei profumi dolci ma probabilmente dipende dal periodo del mese in cui io sono in alcuni giorni mi piacciono tantissimo e in altri non li sopporto dipende questo qui è un floreale fruttato allora floreale proprio no perché non c'è manco un fiore dentro mi sembra di aver letto quindi è solo un fruttato qui abbiamo il lampone la mora i cachi il sandalo e abbiamo un altro un altro frutto che non me lo ricordo quindi è un profumo totalmente fruttato in effetti la componente floreale non c'è si sente tantissimo la mora la mora i cachi però il sandalo non lo sento tanto probabilmente quando si assesta sulla pelle viene fuori poi il sandalo come ultima diciamo ultima nota questo mi piace tanto secondo me questo qui anche utilizzato da solo va benissimo però sono sempre profumi adatti a fare il layering quindi da mettere insieme ad altri profumi tra i due mi piace di più questo e tra i tre questo questo è il mio milkshake mi piace di più il milkshake però come come vi ho detto prima ma come vi ho detto già altre volte i profumi proprio tanto tanto dolci quelli super coccolosi super dolcissimi non sono i miei preferiti dipende dal periodo del mese o dal dall'umore a volte non li sopporto a volte li sopporto questo qui lontanamente potrebbe quasi ricordare biblos mare ma non è come biblos mare perché questo ha una componente molto molto acida e quindi non è proprio il mio ideale di profumo bene ragazze questo è un video brevissimo scusate se ho dovuto farne un altro ma proprio prima non avevo posto sulla memoria del telefono per continuare il video fatemi sapere se conoscete questi due bonbon malizia se conoscete anche il milkshake se utilizzate e conoscete questa maschera di la roche poset che ha degli ingredienti meravigliosi io adesso vi saluto e ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi a presto ciao